Gli assessori chiamati a far parte della giunta di governo ericina sono Angelo Catalano, Gian Rosario Simonte, Gian Vito Mauro e Valeria Ceravino. Si tratta insomma di un esecutivo all'insegna delle conferme della passata amministrazione Trancheda, visto che sia Mauro che Catalano, assieme alla stessa Toscano, sono stati assessori nel precedente esecutivo. Uniche new entry sono Gian Rosario Simonte e Valeria Ceravino, che provengono comunque dai banchi della maggioranza del Consiglio Comunale a sostegno di Trancheda. I nuovi assessori hanno prestato giuramento nel corso di una breve cerimonia che si è tenuta presso il Palazzo Municipale di Erice. La linea è conseguita è quella della governabilità di un territorio. Noi abbiamo necessità, soprattutto in questa prima fase, chiamiamola così, di start-up, di rispondere a determinate esigenze per far partire la macchina politica amministrativa. E pertanto la scelta sugli assessori è fondata soprattutto sulle competenze, sulle capacità e sull'esperienza, che in questa prima fase sicuramente sono assolutamente necessarie. La Ceravino, che si darà in giunta in quota a Cives e a Cittadini Pererice, si occuperà di urbanistica, partecipate, affari legali, personale e rapporti col Consiglio Comunale. Quindi tutte materie che attengono sostanzialmente alla mia competenza e alla mia professionalità. È una nuova sfida, nonostante io abbia avuto sulle spalle dieci anni di esperienza da Consigliere Comunale, mi accingo a questa nuova avventura, devo dire, con entusiasmo e con tanta passione e anche con tanta emozione. Deleghe confermate per Angelo Catalano, nominato Vice-Sindaco. Continuerà ad essere un servizio per i cittadini di Erice, assoluto. Le deleghe sono le stesse che avevo già prima, con qualcun'altra sempre deleghe operative, deleghe di manutenzione e tutto quello che può servire per aiutare Daniela al governo di questa città. Quindi siamo qui, lo spirito è sempre lo stesso, quello di servizio H24. Lontano dalle poltrone e mezzo alla gente. Già Rosario Simonte è stato invece chiamato a gestire finanze, frazioni e sport. È un grosso impegno e una grossa responsabilità, è una delega molto pesante. Per fortuna per quanto riguarda la mia libera professione si avvicina a quelle caratteristiche lavorativi che io consigo nella mia professione, per cui metterò in campo tutte le mie professionalità per poter raggiungere risultati migliori. E come diceva, in base ai tagli regionali e nazionali non sarà facile chiudere il bilancio. Ma io sono convinto che con il supporto degli uffici che in questi anni hanno dimostrato di ben lavorare insieme all'amministrazione, di poter avere una collaborazione proficua e di poter fare un bilancio sempre migliore per la città di Erice. Il sindaco toscano ha tenuto per sé le deleghe relative a pubblica istruzione, politiche sociali, centro storico e cultura. Gianni Mauro, così come fatto nella precedente amministrazione, si occuperà di progetti e finanziamenti europei, oltre che di marketing territoriale. Sicuramente le priorità sono quelle di andare a recuperare quasi un mese, come dire, che si è perduto rispetto a tante altre cose che abbiamo in giro. Mi riferisco a qualche finanziamento, in particolare per esempio uno sul centro storico oppure quello sul campo di Mocarta, che sono lì per lì per essere decretati, ma è ovvio che così come in tutte le cose, in questi dieci anni di esperienza che ho maturato, ormai ne sono convinto, occorre andare agli uffici e sollecitare.